Dopo il PSI anche Europa Verde decide di passare all'opposizione del governo Melucci. In pratica la compagine governativa che era uscita fuori dalle elezioni amministrative sembra essere più stravolta con chi sedeva in maggioranza che passa tra i gruppi di opposizione e chi invece era stato spedito all'opposizione che ormai rappresenta il vero dominus del governo cittadino. A Palazzo di Città non si governa più, si litiga, ci sono riunioni di maggioranza che si susseguono l'una con l'altra, giunte che vengono nominate per poi essere azzerate, per poi essere nuovamente rinominate. Ci chiediamo di qui al 2027 come possa portarsi avanti un'attività politica e amministrativa con queste condizioni e soprattutto se agli attuali amministratori e al sindaco in testa preoccupi il fatto che la città abbia tanti problemi che non vengono affrontati e la cui soluzione non è ormai più nelle possibilità dell'attuale classe politica che siede a Palazzo di Città. Tutto questo dovrebbe indurre ad una riflessione anche rispetto alla dignità che in politica, così come nella vita, rappresenta un elemento formidabile anche di scelta delle proprie azioni e dei propri comportamenti.